Tu non sei reale! Tu non sei reale. Sbrigati, dobbiamo alzarci! Bebi, 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 torna al letto! Continuo a pensare a quella storia. C'è un video... che ti fa morire sette giorni dopo averlo visto. Nel momento in cui termina, il telefono squilla... e una voce ti dice... Sette giorni. È quando lei verrà da me. Tu vuoi sapere della ragazza del pozzo? Che cosa vuole da me? Il simbolo sulla tua mano significa rinascita. Sette giorni. 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 Mamma. Lei è qui. Giulio! Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro. Sette giorni. 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 Sette giorni.